Vediamo come cercare nell'OPAC Bicocca in Subria un libro o un capitolo di libro di cui abbiamo la citazione bibliografica. Nel sito della nostra biblioteca, nella sezione centrale, accesso rapido, troviamo il catalogo online OPAC. Lo seleziono. Cerchiamo la citazione che vediamo in sovrimpressione. Viene dalla guida dello studente nella bibliografia di un esame. Lo stile citazionale può essere diverso, ma gli elementi che compongono le citazioni sono sempre gli stessi. Il modo più efficace per cercare un libro è inserire autore e titolo. La ricerca base, che esce di default, presenta solo un campo per cercare. Andiamo nella ricerca multicampo. Per avere più spazi, inseriamo gli elementi. Quindi abbiamo Rodriguez, che è l'autore, e il titolo, professione ostittrica. Non serve scrivere tutto il titolo, basta una parte. La cosa importante è stare attenti alla battitura, perché anche il minimo errore non permette di localizzare il documento. Lancio la ricerca col vai. Trovo un risultato. Lo seleziono. Abbiamo trovato il libro che cercavamo. Questo libro si trova presso la sede di medicina della Bicocca. Seleziono il nome della biblioteca per vedere tutti i dettagli, ad esempio quante copie sono disponibili e che durata avrà il prestito. Trovare un libro in biblioteca senza conoscere la collocazione è un'impresa ardua. I libri sono ordinati per disciplina, secondo la classificazione decimale Dewey, in sigla CDD. È la classificazione bibliografica più usata al mondo. La collocazione è composta dal numero dato dalla CDD e da lettere che indicano autore, titolo e anno di pubblicazione del libro. Ogni scaffale ha in testa l'indicazione del numero CDD, quindi con quello è facile orientarsi. Ma facciamo un altro esempio di ricerca. Cerchiamo un capitolo di libro. La citazione è in sovraimpressione. Quando cerchiamo un capitolo di libro, dobbiamo ricordarci di cercare nell'Opac i riferimenti del libro, non del capitolo. In questo caso, il titolo del libro è La ricerca bibliografica, strumenti e metodi per trovare e utilizzare la letteratura sanitaria e gli autori del libro sono Vellone Piretta. Andiamo nell'Opac a cercarlo, ricordandoci appunto di inserire i dati del libro, non del capitolo. Quindi inseriamo ad esempio il nome di un autore, ad esempio Piretta e il titolo. Basta una parte, ad esempio la ricerca bibliografica. Vai! Abbiamo trovato il risultato. Il libro si trova in due biblioteche, nella sede di Medicina della Bicocca e all'Insubria, Medicina e Scienze. Nel sito della biblioteca, alla voce Servizi agli utenti, trovi tutte le informazioni sul prestito di libri e sul prestito interbibliotecario. Grazie.